Per favore e poi rimanere molto in alto e ora secondo tentativo per Bianca Falcone Non si può dire che non sia andata bene, è andata bene assolutamente questa sera con un risultato importante, con un gran bello spettacolo sia al femminile che al maschile è stato un eccellente spettacolo anche questo pomeriggio con le categorie giovanili quindi siamo assolutamente molto soddisfatti di questo risultato che abbiamo ottenuto come organizzazione sembra che sia tutto andato bene, la partecipazione del pubblico c'è stata perché siamo soddisfatti perché c'è stata molta gente nonostante abbiamo avuto un momento di pausa, un intermezzo perché qualche goccia di pioggia si è presentata anche sulla città di Aosta ma è andato tutto veramente bene, siamo soddisfatti e abbiamo uno stimolo in più per costruire delle cose anche per il futuro e signori sul ritmo, accompagniamolo buona, no, era su tantissimo era su salvo parti e tre vola 5 in più e volate in cielo 2 in più e eccò 4 in più 4 in più 3 in più 5 in più 5 in più 2 in più 3 in più Bocchè è la rima, Fanzai è l'ora. Ecco la prova, il campione che deve fuori, il campione, salto è pulitissimo. Salto Pulizzi. Evo, Evo Ola. Sembra una volta ragazzi. Allora abbiamo con noi anche il sindaco, la rega Bastille. Grazie.